da lisbona con vista oceano atlantico ad amsterdam tra tulipani mulini a vento e canali e ancora da francoforte lungo il fiume meno a dublino fino al partenone di atene ottobre mese delle maratone europee sia che siate sportivi che non lo siate l'occasione è ghiotta per un viaggio fuori dai confini nazionali e fuori dagli schemi sì perché partecipare o assistere ad una maratona in una delle grandi capitali europee significa guardare la città da un altro punto di vista circondati dall'energia degli atleti si parte il 5 ottobre con la maratona di lisbona il 19 ottobre si cora ad amsterdam il 26 a francoforte il 27 a dublino e il 9 novembre ad atene